Ciao bellissimi, secondo video giornaliero, siamo tornati su Brawl Stars e finalmente ci siamo, mi hanno raccontato che sono usciti un sacco di bilanciamenti, brawler invisibili, roba mistica, fatemi sapere cosa ne pensate di questo periodo di Brawl Stars. Quello che so io è che è uscita Meg nello shop, ma noi non la prendiamo dallo shop, c'è anche una cassa Megafree, lasciate un like, oggi prenderemo tutto quanto, iscrivetevi, attivate la campanella e codice Crax alla fine dello shop, perché una volta ogni sette giorni scade. Oggi mi vado a prendere le nuove skin di Semino che sono uscite da qualche giorno, le prendiamo instant, reazione epica e cominciamo a fare un po' di box opening per trovare eventualmente Meg. Saremo fortunati? Io sinceramente non lo so. Andiamo subito a shoppare, infatti mi mancano le gemme, però posso fare pure una cosa, posso prendermene già una, guardate che carino con il selezionatore di skin. Prendiamo prima quella verde e finisco le gemme, eccola qua, molto carina ragazzi, il semino principe di Smeraldo e abbiamo pure principe di Rubino. Vado ad utilizzarlo, mi ricorda molto Pokémon, Smeraldo, Rubino e Zaffero. Vado a vedere se è cambiato qualcosa, ma non credo. Non so se vi ricordate, ma dall'applicazione sviluppatore, bellissimo comunque l'effetto, eh. Skin che secondo me vale assolutamente le gemme spese. Wow, mamma mia regà. Considerate quella verde, c'ha i tetti verdi sopra la ulti. Davvero spaziale, bellissima. Ora, ricarico le gemme con codice Grax e ce ne va a prendere anche l'altra. Shoppata fatta, vi ricordo che il codice worka quando cambiate gli euro in gemme oppure quando shoppate offerte costo euro. Ho preso le gemme, adesso sto bello carico per andare a shoppare. Mi prendo anche l'altra desimino, poi mettiamo in stembe la shoppata perché vi ricordo che c'avevo un sacco di emoticon epiche da gestire. Ah, fermi che mi hanno regalato pure l'emoticon, bellissima. Quindi mi dovrebbe dare pure quella del semino rosso, giusto? Stavo dicendo comunque hanno troppato l'aggiornamento, ma non hanno ancora troppato il pacchetto singolo di emoticon rara. Vabbè, questa è gratis, bellissima, questa è gratis, bellissima, questa è gratis, fantastica. Ma attenzione, non finisce qua, ma ne parliamo a fine box opening perché c'è questo punto esclamativo qua in alto a destra. Voi come sempre like, iscrizione, campanella e si va sul pass. È il momento di non aprire i pacchetti perché vi faccio vedere, sono ancora buggati, non posso trovare l'emoticon rare. Ho un sacco di cose da prendere. Oro, che probabilmente servirà per i nuovi livelli. Ash, pollicione, punti energia, ma potrei anche aspettare perché almeno poi sblocco altre casse. Ash con la coccetta e andiamo con casse enorme. Maxiamo instant Ash, che non è maxato. C'è un'altra di casse enorme, la numero 44, che non è instant maxato. E ho una cassa mega, forse quella cassa mega lo maxo e sblocco altre due casse enormi. Attenzione, big mega cassa. Maxato? No, che sfiga. C'è uno schippetto, era doppio oggettone, non ci interessa. E allora andiamo sulla stagione precedente. Cassa enorme, mi apro pure un po' di roba, cominciamo il box opening serio. Ash più 34, poi abbiamo cassa brawl, sempre Ash più 5, di Meg neanche la puzza. Altra cassetta, Ash max, no. Che stai di Crax? Posso prendermi le monete, potrei prendermi pure le gemme, credo. Io penso fino a 20 ci potrei pure arrivare. Secondo me sì. Quindi, partiamo con le casse, quelle piccoline. Mi maxo tutto, tanto qui non esce mai. Io ve lo dico, di solito quando dico così poi arriva subito la smentita. Però dovrebbe roteare instant e non rotea. Cassa enorme 19. Te prego, dammi qualcosa di buono. Lo abbiamo maxato. Finalmente sì, quindi posso tornare indietro e prendere i punti energia scambiati. È vero che potrei anche tenerli per poi darli subito a Meg, ma chi l'ha detto che becchiamo Meg? 165. 222. Quindi ci ho provato, ma non ha funzionato. Dobbiamo stare molto calmi. Ricordiamoci che abbiamo pure una cassa Mega in più. Enorme 17. 17 è il mio numero fortunato. Ti prego? Al momento neanche uno skip, considerate. Cassa enorme. Questa è la prima parte del pass numero 6. 148. La banda del braccio d'oro, tra l'altro. Cassa enorme. Dai, qualcosa devo uscire, please. Ragazzi, non è possibile. Ci abbiamo la 11. La 9. E 3 Mega casse. Non me la scammare così. 103. Cassa enorme. Numero 9. Io sto cercando di, diciamo, mandare le mie influenze positive, ma non ce la stiamo facendo. Cassa enorme numero 7. Attenzione. Non rode a niente. Non rode a niente. Vi immaginate se becchiamo tipo doppio, triple skip luminoso? Lì so dolori, eh. Ma, scusate. Ma posso maxare qualche brawler? Posso trovare roba? Sì, posso trovare la starpita e semino. I gadget non li posso più trovare. Li ho praticamente tutti. Posso maxarmi, magari, un altro brawler. Chi ci facciamo? Ci facciamo corvetto? Facciamoci corvetto, dai. Corvetto max. Magari trovo la starpita e corvetto. Chi lo sa. Torniamo indietro. Si arriva sul pass. Enorme numero 3. Magari questo devo farlo prima. Daglie. Attenzione. Skip luminoso. Non può essere. Non può essere. Abbiamo trovato la stellare de griffetto. Bene. Quindi una starp l'abbiamo presa. Abbiamo le casse mega free. La numero 10. Brahim Diaz. Attenzione. 524. La numero 20. Poi preparatevi che torneranno anche le altre parti. Ci abbiamo pure alla fine, credo, un sacco di case. 68. Ci abbiamo tutto il tempo e la possibilità di trovare il brawler. Mega cassa 20. Te prego, dammi qualcosa di veramente top. Ragazzi. Diciamo che questo primo box opening per trovare Meg non è andato veramente alla grande. Dove c'è lo griffo? Ecco qua. Togliamo la spunta. Ma ce n'abbiamo un'altra. Più la reazione epica. E addirittura la cassa gratis. Roteata finale. Oh mio Dio! Ma che stai a dire? Impazzisco! Grax è leggermente fortunato. Non c'è trucco, non c'è inganno. Ci sta ancora la mega cassa. Ma che stai a dire? Questa è palesemente fatta apposta per far tornare a giocare chi non gioca. Ma palesemente, palesemente. Giusto, posso prendere pure il pacchetto di reazioni. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Sapete che vi dico? Dato che il video è stato top e io come sempre vi chiedo un like e l'iscrizione e una campanella per il supporto, mi prendo doppio pacchetto, reazione epica e mega cassa. Prendiamo tutto. Vado. Mamma mia, pensavo schippetto. Invece Meg più 200, ottimo. E la vado a potenziare instant. Che fortuna. E se non sbaglio, dovrei avere la possibilità di prendere doppio pacchetto. Sì, perché sono... Attenzione, mi si bagga però. Ragazzi, mi si bagga Meg. Perché ho solo la possibilità di prendere un pacchetto. Dato che le emoticon sono dispari. Ora vediamo, sfatiamo subito questo mito. Fatemela potenziare. Fino a dove posso. Ok, livello 5. Se prendo quello del pass, mi dovrebbe scomparire quello dello shop. Guardate. Perché non può darmi una singola emoticon comune. Giusto? Belle che clappa. Cosa? L'avete visto? L'avete visto? L'ho registrato in live. È scomparso. Ho tenuto. C'era scritto sotto. Questo è un video incredibile, raga. E quindi mi si bagga. E non posso prendere l'altra. Devo aspettare che esca un altro brawler. Così. Un emoticon comune più tre comuni dell'altro brawler. Vado a quattro comuni e posso prendere doppio pacchetto. E li maxo tutti e due. Io non ho parole. Roba mai vista. Vado al volo, ragazzi. A prendere anche l'emoticon epica. E GG per noi. Carina quella testù. Io vi chiedo un like. L'iscrizione alla campanella. Il codice Craxen lo shop. Trovate il link in descrizione anche per il Supercell Store. Sono stato strafortunato. È uscito un video veramente incredibile. Meg dalla cassa gratis. Non ci voglio mai credere. Ci becchiamo forse questa sera o questo pomeriggio in live. Un abbraccio. Ciao belli. Ciao ciao. Ah, in conclusione, mi sono dimenticato di prendere sta roba qua. Cioè, colette che clappa e... Colette che clappa rara? Cose molto strane, ragazzi. Ve lo dico. Ma di Gilindo oppure quella rara che clappa? Ma mi ha dato quella che dovrebbe uscire in teoria nei pacchetti. Non ce ne sto a capire niente. Farò un ricalcolo di tutte quante le spille. Ragazzi, dopo diversi conti, togliendo l'emoticon comune di Meg, togliendo le rare e le special dei cromatici, mi mancano 33 emoticon rare e 33 emoticon epiche. Le finiremo insieme. Un bacione un'altra volta. Ciao belli. Ciao ciao.